Non ero così sorpreso da quel giorno al ristorante per il mio compleanno. Allora ragazzi, paghiamo il conto e andiamo via! Tanti auguri a te! Che ragazza! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Peter! Tanti auguri a te! Non vuoi spegnere le candeline, Peter? Mamma, credo che Papo non stia bene. Peter? Peter? Oh mio Dio! Aiuto! Qualcuno chiama il 911! Stia tranquilla signora, qui da Bennigan succede continuamente. Quanto tempo dura? Difficile dirlo, la cosa migliore è voltare pagina.